Buongiorno, sono Enrica Beretta, titolare presso Unitre Edu del corso di Storia del Conflitto Arabo-Israeliano. Il corso viene erogato in modalità online live che prevede l'interazione tra docente e studente e si tiene ogni 15 giorni, il mercoledì, dalle 15.30 alle 16.30. Il corso ha l'obiettivo di illustrare gli eventi storico-politici che sono all'origine del conflitto arabo-israeliano e la loro evoluzione nel tempo, fino a quelli che sono gli sviluppi più recenti. In quest'ottica, dopo una panoramica macro-storica di quello che era la Palestina nell'antichità, si esamina in modo più dettagliato ciò che è accaduto a partire dalla fine del 1800. Viene trattato in modo approfondito il sionismo che ha presentato nelle sue varie componenti e il suo affermarsi come un'organizzazione strutturata sulla scena internazionale. Viene data grande importanza alla politica delle grandi potenze in Medio Oriente nei primi decenni del XX secolo e ai trattati internazionali che sono stati stipulati in questi anni. Si esamina quindi la nascita dello Stato di Israele, la diaspora palestinese che vi è associata e le guerre arabo-israeliane che ne sono state una conseguenza. Un posto di rilievo viene dato allo studio del nazionalismo e dei movimenti di liberazione palestinesi, alle proposte di risoluzione del conflitto e al ruolo degli attori internazionali nel processo di pace. Si giunge al fine ad esaminare gli anni a noi più vicini, l'evoluzione della situazione politica interna sia israeliana che palestinese e i nuovi equilibri geostrategici nell'area medio orientale. Ecco nel ringraziare per l'attenzione segnalo che il programma didattico è consultabile unitamente al curriculum del docente, all'elenco di tutti i corsi programmati, sono oltre 300 che sono liberamente frequentabili nel numero che si desidera e alle modalità di iscrizione accedendo al sito www.unitreedu.com. Grazie e a presto!